Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi e buon inizio di settimana. Vi ricordo come sempre l'iscrizione qui su YouTube se volete supportare il mio canale informativo sul mondo di Call of Duty. Vi aspetto oggi 13.30 in live, piattaforma Viola trovate il link in descrizione. Instagram e Telegram per non perdere le notizie giornaliere sul mondo di Call of Duty. Vi ricordo la mia collaborazione con Encontrollers. Se volete regalare un controller completamente personalizzato potrete settare qualsiasi cosa del vostro controller PS4, PS5 e Xbox. Partiamo subito, video più corto del sole perché di domenica escono poche news, però ovviamente un video ricco perché troverete tutte le vostre top clip, o meglio le vostre e le migliori giocate che mi avete mandato scorsa settimana. Se volete mandarmi sempre le vostre migliori giocate trovate il form da compilare sul mio canale Telegram in alto. Basta cliccare nel post in rilievo, ci sono due post, uno per la collaborazione con Encontrollers e l'altro per mandarmi le clip con il form da compilare su Google. Poi se mi taggate anche su Instagram con qualche clip, molte praticamente le pubblico già nelle stories del mio profilo di Instagram. Quindi mi raccomando, partiamo subito. Ecco un rapido recap dato che ieri vi ho parlato di tutto quello che dovrebbe arrivare all'interno di Modern Warfare, tra mappe, operatori e chi più ne ha più ne metta, di tutte le immagini in anteprima in-game dei due nuovi operatori SOAP e SPARK che come sapete arriveranno nei titoli fra i prossimi contenuti dedicati a Modern Warfare e Warzone che stranamente però ancora non vengono annunciati, nonostante all'interno dei file di gioco sono contenuti veramente da tantissime settimane. Ieri vi ho parlato di tutti i vari easter egg e segreti che si stanno presentando all'interno di Warzone sia per quanto riguarda il lato Verdansk sia per quanto riguarda il lato Isola della Rinascita. Quindi dopo la prima immagine trapelata nella giornata di ieri, ecco un video sulla macchina zombie che si è avvistata anche all'interno del stadio. L'altro giorno vi ho fatto vedere di quella che è possibile trovare all'interno dell'ospedale. Quindi al momento le posizioni delle due attuali macchine zombie sono lo stadio e l'ospedale. Normalmente queste si trovano soltanto nella modalità Zuffa Squadre mentre nella versione Battle Royale normale non si possono trovare. Ieri il leaker Modern Warzone ha confermato che gli zombies avranno una nuova modalità di gioco radicata nell'esperienza Fireteam chiamata Outbreak. Ci sarà comunque un collegamento con Warzone in quanto le sfide svelate in queste ore si potranno effettuare su entrambi i titoli e si parla di zombies normali, zombies d'elite, zombie speciali e molto altro ancora. Quindi ci aspetta sicuramente qualcosa di molto grosso nei prossimi giorni e soprattutto con la season 2 per quanto riguarda la tematica zombies. Ieri ne ha parlato anche il leaker Gigi Past Times che ha detto che secondo lui non è casuale il bug del lancio dell'approvvigionamento che ultimamente sta cadendo all'interno o meglio in mare sull'isola della Rinascita. Come sapete sull'isola della Rinascita è stata avvistata una nave che a quanto pare porterebbe il gas Nova 6. Trovate gli approfondimenti nel video di ieri. Quindi cosa bollirà in pentola e stanno facendo appunto quelli della Raven dei test privati per l'evento appunto che arriverà con la stagione 2. Rimanete sintonizzati perché vi terrò aggiornati appunto su tutto quello che accadrà in anteprima. Questo era tutto quello che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Vi aspetto 13.30 in live. Iscrivetevi per non perdere il video informativo giornaliero. E appuntamento con me domani ore 7 con un nuovo TG Code. E adesso vi lascio alle clip. Ma dove sono io che ho la gang? No, niente, ho la gang troppo. No, niente, ho la gang. C'è l'elicottero. Ha ripreso. A terra! A terra! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! C'è l'ho morto, c'è l'ho morto, c'è l'ho morto. Ma io fai un cuore, gioco di merda, gioco di merda. Stanno sul tetto due. Sto subendo colpi. Tutti i golpi. Oh vai che c'è la macchina, vai che c'è la macchina e c'è la RPG. C'è scelta! C'è scelta, c'è scelta. Cheat non funziona! Non ti giuro, bravo, in questa è da clip. Hanno preso la Dautolac comunque. Cheat non funzionerà mai! No, big bro, mi dispiace per te, bravo. Sopra uno. A terra pure quello, mamma mia, mentre si è salta fatto dalla finestra. A terra pure l'altro. Che ho fatto? Voglio che ho fatto, questo mi abbanno. Helicopter, il helicopter, è il helicopter. Mamma mia! Hai un nemico! Ok. Concentrati! Attenzione! Un nemico vi insegue! Attenzione! Attenzione! Bombardamento e precisione alleato in arrivo! Wapin è il suo di muro! Non restate! Nice one! da due metri a sinistra a verde verde tra patissimi mamma mia si ma sono altri pozzetti e 4 io sono 12 metri 22 la casa casa vicino all'angar staccato 10 metri stanno busciando 33 33 33 33 33 vieni vieni mi si è aperta la porta suonati suonati stumati no meno stumato non ho piaci la terra l'altra una vita stanno restando a terra a terra quello che ha arrestato no a terra si autoressato uno ragazzo sta succedendo ragazzi 13 metri a sinistra nella stanza oh no non mi ha fatto resta 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 sto morendo sto morendo resti mi resti mi resti non ci credo non ci a terra la terra la dentro rega busciamo a quelli a rosso busciamo a quelli a rosso come si a terra due volte qua qua ho messo a terra uno l'ho messo a terra un'altra volta prima l'altro terra terra io buscio arrivo dove dove è qua qua davanti qua davanti abbiamo usato un brutto fusione sono un po scoperti eh si vieni da qui sotto si si da te si arrivo 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 è la gente là lo shop c'è la gente lo shop qua si si 40 metri si qua ministra è rispondato compagno finito nel kulak il compagno inviato nel kulak combatterà per tornare in azione Venti, io sto l'occa Mi? Sì Correte, raggiungete la zona Lanzo una granata Attenzione, uomini, rientro forzato per fare ricorso Sì, lo prega Terminiamo Sì, lo prega, solo sotto tiro Non mi arrivò Hai spunto nelle tue mani, vinci Due ripasti Gas in arrivo, alla nuova zona sicura Arriva il gas Attacco al grappolo nemico Al riparo Mi hanno colpito Mi hanno colpito Il primo principale che ho portato Bel lavoro Gas on the gaunt Ma poi non si Sei sinner Che vai Nemo Sì È Cazzo di meee! Questo è stato bellissimo! Poi non ti dà le kill! Ah io non ho kill, vediamo! No, le kill non gliele darò! Non è che... Allora c'è il ritorno però! Ma questo mi serve! Spare, spare! No! Occhio che è pazzo, Nicolto! Prendi i soldi, prendi i soldi al resto! Guarda che brava col pensiero in mano, che ne hai visto! Audio! 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 Molpini arrivo! UAB temiico in volo! Avete pazzi, capito? UAB! 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 mamma mia! UAB! 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 UAB, UAB! Ascolto... Attenza! Ah no, è un nico, va Ah no, è un nico, va Mi persagliano Ho quattro, eh, nico Buona qua Buona qua Che merda, devi saltare la quattro, bla No, ma mi sa che morrono, no no Non morirà oggi Eccolo Eccolo Mamma mia Mamma mia Eccolo 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 Uno sta salendo Bravo, bravo Oddio Mamma mia Eccolo 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 Grazie a tutti